Appassionati di pallanuoto, tifosi del Settebello, benvenuti ad una nuova puntata di Waterpolo Preview settimanale in edizione speciale dedicata ai mondiali di Doha, si chiude con l'amaro in bocca alla rassegna iridata, il Settebello affronta un'autentica battaglia all'ultimo sangue contro la Croazia, cede forse in maniera eccessiva a qualche provocazione di troppo degli avversari che la mettono alla grande sul piano fisico, tiene botta, reagisce ai tentativi di avvantaggiarsi degli avversari e nel finale riesce a piazzare la zampata che tante altre volte lo ha portato anzi alla vittoria come è successo contro gli Stati Uniti con la Grecia e in semifinale con la Spagna ma purtroppo sbaglia una lettura nei secondi finali, a quattro secondi dal termine subisce il pareggio in superiorità numerica di Buric, si va così ai rigori, parte bene la nazionale allenata da Sandro Campagna con Del Lungo che neutralizza la conclusione di Fatovic ma rivelarsi fatali sono purtroppo gli errori dai cinque metri di Eceniche e di un di Fulvio che anche oggi era stato splendido trascinatore dei suoi insieme ad Andrea Dedi Fondelli, i croati si impongono 15 a 13 dopo i tiri di rigore e conquistano così il terzo titolo irritato della loro storia, l'Italia torna a casa con la seconda medaglia consecutiva dopo il bronzo di Zagabria e la certezza di avere tutte le carte in regola per lottare a Parigi per qualcosa di grande, ecco la mettiamo così, ma per analizzare la prova degli azzurri abbiamo il piacere di avere il nostro ospite il difensore dell'Astranuto Roma Andrea Tartaro Ciao Andrea grazie a te dell'invito Andrea grande battaglia nella finale mondiale, partita nervosa, partita nella quale i croati cercano tanto il contatto fisico ma il settebello non si spaventa, regge la lotta, prova a giocare tiene testa agli avversari e nel finale ancora una volta piazza la zampata che potrebbe sembrare decisiva ma quattro secondi dal termine i croati sfruttano quella che per me è la loro miglior arma, la superiorità numerica, impattano sul pareggio e poi la spuntano purtroppo per noi perché spesso sono amari ai rigori. Quali emozioni ci ha regalato la finale di Doha? Ma è stata una partita bellissima, infatti voglio fare inizialmente i complimenti a tutta la a tutta la nazionale, a tutti i ragazzi soprattutto perché hanno fatto un mondiale incredibile cioè non è stato facile iniziare questo mondiale con l'obiettivo di andare a Parigi e andare a giocare alle Olimpiadi e poi sono stati bravi a continuare questo percorso che li ha portati fino alla finale. È svanito su proprio ai rigori quindi siamo stati proprio vicinissimi a prendere un oro mondiale fondamentale. La partita è stata molto intensa sia fisicamente che dal punto di vista anche delle espulsioni. Non so il dato però... Più di 30, io non le ho contate però ti posso dire più di 30. Quindi questo significa comunque che la partita è stata molto dura fisicamente, le squadre hanno giocato la maggior parte del tempo in inferiorità numerica. Purtroppo l'Italia non ha avuto un grande percentuale di uomo in più rispetto alla Croazia che invece ha messo due tre gol proprio sul palo 5, mi ricordo due del centro boa e quelli sono stati un po' il fattore che ha portato poi alla Croazia a rimanere sempre più avanti rispetto all'Italia. L'Italia a un certo punto doveva sempre rincorrere, non è facile. Abbiamo avuto delle occasioni per passare con due gol in vantaggio ma non siamo stati riusciti i ragazzi poi a capitalizzarle. Però purtroppo hai perso il mondiale quindi il dispiacere rimane anche se hai fatto una buona partita. Ma purtroppo sei arrivato secondo. Certo, però io provo a ribaltarti la situazione in questo modo. Ti chiedo, è un argento vinto o è un oro perso? Ma io sono uno sportivo quindi per me è un oro perso perché punti sempre a vincere. Purtroppo noi dentro di noi abbiamo sempre l'angoscia di perdere, anche se perdi bene, comunque hai sempre perso. Quindi non avendo giocato questa partita l'unica cosa che immagino che i ragazzi possa essere l'emozione che possono provare adesso è di voler rigiocarla e voler rimettere tutte le energie che hanno adesso a loro disposizione l'adrenalina per rigiocarla e poterla vincere. Hanno una fortuna incredibile quella di poter prendere parte alle Olimpiadi e che 100% secondo me l'Italia andrà con l'intenzione di vincere perché la squadra c'è, Campagna fa un ottimo lavoro con questa squadra, poi ci sono dei giocatori con delle qualità incredibili di Fulvio, Condemi oggi ha fatto delle situazioni di gioco incredibili, anche lo stesso Alessandro Velotto, Fondelli. Non voglio dimenticare nessuno ma è una squadra potenzialmente da medaglia olimpica, quindi parliamo del top del top. E allora hai iniziato questo discorso, ti chiedo di approfondirlo. Adesso si ritorna a casa, ci si rituffa nel finale di campionato, nelle coppe e poi partirà la lunga preparazione per Parigi. Questa squadra in Francia può aspirare solamente a una medaglia o può mettere nel mirino il bersaglio grosso a più di 30 anni dall'oro di Barcellona 92? Ma da esterno ovviamente è amante del tifoso della nazionale, credo che la nazionale italiana quando tu indossi, ho avuto la possibilità, l'onore di giocare qualche mondiale giovanile e anche di perdere una finale mondiale giovanile. Quando indossi quella calottina non ci sono altre possibilità, o entri in acqua per vincere oppure esci perché hai dato tutto te stesso. Andare alle Olimpiadi l'Italia significa andare a medaglia, cioè puntare alla medaglia, la zona più alta del gradino, quindi l'oro olimpico. Sì, l'Italia non vince da tantissimi anni, io non ero neanche nato quando l'Italia vinceva in Spagna, però l'obiettivo dei ragazzi deve essere quello, di puntare all'oro olimpico, perché poi è un oro che fa vincere l'Olimpiade in sport come il nostro, come il basket, come la pallavolo, permette a tutto il movimento sportivo, in questo caso la pallavolo, di giovare. Quindi non c'è solo la vittoria della medaglia olimpica, ma c'è una vittoria di uno sport che porta introiti economici, porta riconoscimento dei ragazzi, quindi dobbiamo, tra virgolette, tutti quanti di fare Italia, tutti quanti ci dobbiamo avvicinare a questa squadra, soprattutto in un momento come questo, che veniamo da un bronzo all'europeo e un argento mondiale, quindi se noi siamo scaramantici, noi napoletani. Il prima competizione è fatto il bronzo, la seconda è fatto forse. Manca l'ultimo gradino, ti leggo nel pensiero, manca l'ultimo gradino. L'ultima competizione dell'anno, speriamo dai. Ringraziamo Andrea Tartaro per essere intervenuto a completare il podio del torneo iridato e la Spagna che nella finalina del terzo posto, giocata in mattinata, supera abbastanza agevolmente la Francia con il punteggio di 14-10, gli iberici sono sempre in controllo del match, sfruttano con sistematicità l'arma delle ripartenze e ancora una volta si confermano sul podio, rivadendo quella che era stata la loro posizione nell'ultimo torneo iridato, quello della scorsa estate a Fukuoka, bronzo in Giappone e bronzo anche qui in Qatar. Siamo così giunti al termine di questa puntata, io ringrazio gli ospiti intervenuti e tutti coloro che ci hanno seguito in questo intenso periodo di campionati europei e campionati del mondo e vi do appuntamento per la prossima puntata di Waterpolo Preview che riprenderà la sua forma ordinaria.